Buongiorno a tutti, allora, come ha detto la professoressa, io mi sono appena laureata a fine febbraio, ho fatto il corso qua a Varese della triennale, Scienze e Tecnologie Biologiche, mi sono laureata nel 2015 e poi mi sono subito iscritta, anzi, mi sono iscritta prima di laurearmi al corso di Biomedical Sciences. La mia grande domanda all'inizio era appunto la lingua inglese. Seguire i corsi in inglese inizialmente non è semplice. Sia come proprio seguire perché è più stancante con fronte a seguire in italiano, ma anche prendere appunti all'inizio non è semplice, cosa che si risolve nel giro del primo semestre massimo perché poi comunque la lingua diventa naturale. Cioè vi diventerà più semplice seguire in inglese che in italiano sotto alcuni punti di vista, anche perché tutta la letteratura scientifica comunque è in inglese. Quindi anche molti esami comunque richiederanno la preparazione di una presentazione che si basa su articoli scientifici. Essendo questi tutti in inglese non troverete mai niente in italiano, è più semplice preparare comunque una presentazione. Quindi all'inizio sì è difficile ma poi vi abituate, quindi non siete spaventati dall'inglese perché non è assolutamente un problema. Tutti i professori saranno disponibili, comunque se un argomento non è chiaro in inglese ve lo rispiegheranno in italiano, sia al primo anno che al secondo anno comunque non abbiate timore di richiedere una spiegazione in italiano perché non sarà un problema. Gli esami tutto sommato sono semplici, certo studiare richiederà un pochettino più tempo, specialmente all'inizio io ho avuto difficoltà nei primi esami, poi dopo comunque ci si abitua a studiare in inglese, non è assolutamente un problema. Se durante l'esame avete difficoltà, vi manca una parola, il professore sarà pronto lì a dirvela, non è che sarà, non verrete messi in croce per una parola che non vi ricordate in inglese. Quindi tutto sommato non è un problema. Altre cose, io ho fatto il tirocino, ho scelto di fare il tirocino esterno presso l'Istituto Mario Negri, l'ho fatto presso il laboratorio di spettrometria di massa. Quando ho fatto il corso di spettrometria in generale ho detto non sarà mai il mio campo. In realtà mi sono trovata in questo laboratorio, mi sono trovata benissimo, le conoscenze che mi sono state fornite durante il corso erano sufficienti per iniziare in quel laboratorio, non ho avuto nessuna difficoltà. Anche lì ci sono sia dei bandi sul sito dell'università che vi aiutano a trovare il tirocino sia interno che esterno. Io ho fatto domanda inizialmente con un bando di quelli, poi sono stata reindirizzata dall'Istituto Mario Negri stesso che mi era indirizzata verso un laboratorio dove stavano cercando. Anche lì piena disponibilità da parte di tutti, non ho mai trovato nessuno che mi ha chiuso la porta in faccia o che mi ha detto no assolutamente, sono sempre stata comunque aiutata da tutti. Mi sono occupata durante il tirocino, io ho fatto il curriculum di oncologia, quindi mi sono occupata di tumore al polmone nella piccole cellule, siamo andati a vedere la presenza di due mutazioni all'interno di un ceppo tumorale e siamo andati a vedere come la deprivazione calorica potesse influire sulla crescita di queste cellule mutate. Mi sono appunto appena laureata, quindi tutto il tirocino, tutta la parte della tesi si è seguita nell'Istituto Mario Negri e ho avuto la collaborazione di un tutor dell'università che comunque mi ha aiutato, gli ho fatto un resoconto a metà tirocino e poi gli ho fatto la presentazione, ovviamente ha visto sia la tesi prima che la inviassi e molti richiedono di vedere capitolo per capitolo, molti richiederanno la tesi finita, dipenderà poi dal tutor interno questo e ha visto anche la presentazione della tesi prima del giorno della laurea ovviamente e ho ottenuto consigli sia interni all'università sia esterni, ok? Dopo la laurea io ho avuto due offerte di lavoro, una in ambito scientifico da ricerca, una in ambito non scientifico, quindi ho avuto un'offerta di lavoro dall'IFOM, sempre nel laboratorio di spettrometria di massa, quindi le offerte dopo non mancano, diciamo. Certo bisogna anche essere un attimo abili a muoversi, bisogna essere abili nel fare le proprie scelte, io nel mio caso, parlo per me, non ho scelto di rimanere in ambito di ricerca, ma è stata una mia scelta personale, avendo appunto due opzioni diverse, comunque l'offerta dell'IFOM era ottima, quindi per chiunque voglia continuare sia ricerca che non ricerca, qualsiasi cosa, comunque questo percorso offre un'ottima preparazione di base e per tutto, quindi potete stare tranquilli comunque. Grazie. No, 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 presentazione. Ciao a tutti, io sono Chiara, sono la voce fuori dal coro oggi, io mi sono laureata nel 2014 in biologia applicata alla ricerca biomedica e dopo aver fatto il tirocinio, ovviamente in un laboratorio di farmacologia in cui si studiava la ricerca preclinica, ho deciso di passare alla ricerca clinica, quindi sono uscita completamente e sono stata assunta da un'azienda che si chiama Quintiles, è una CRO che appunto offre un servizio alle aziende farmaceutiche nella gestione degli studi clinici, le sperimentazioni cliniche. Che cosa faccio? È difficile in dieci minuti, però... Cinque minuti? No, 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 no. Ci provo, poi se ci sono delle domande ne parliamo. Come avviene una sperimentazione clinica? L'azienda farmaceutica prepara un protocollo su una molecola, quindi un farmaco, che vuole appunto sperimentare in una determinata patologia, lo fornisce alla nostra azienda e parte tutto un sistema di selezione di centri ospedalieri in cui svolgere appunto la sperimentazione clinica sui pazienti, ovviamente. La sperimentazione clinica ha diverse fasi, ci sono studi in diverse fasi, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4 e il nostro compito è quello di assicurarci che il protocollo sperimentale venga gestito dai centri ospedalieri secondo le buone norme di pratica clinica, che sono delle regole, la Bibbia, della pratica clinica universali. noi facciamo da, diciamo tra virgolette, da tramite, tra appunto l'azienda farmaceutica e i centri sperimentali, siamo sia di supporto che di controllo del lavoro che fanno. È un lavoro molto dinamico, nel senso che le problematiche che ci si trova ad affrontare sono ogni giorno diverse. il nostro obiettivo principale ovviamente è la sicurezza e la safety del paziente e il fine è quello di arrivare ad ottenere dei dati da uno studio clinico che siano il più possibile puliti e veritieri in modo che possa esserci poi un'analisi biostatistica di questi dati affinché i farmaci possano poi entrare in commercio. Se avete domande io ho paura che non abbiate capito niente di quello che faccio e capisco che sia più che possibile plausibile.